5 giornate dedicate alla fotografia. A Grottagli l'associazione fotografica 2.8 organizza un evento Grottagli Photo Festival 2017 promosso in collaborazione con l'Unione Italiana Foto Amatori che sarà dislocato in differenti luoghi del centro storico. Dal 13 al 17 settembre la manifestazione che gode del patrocinio del comune conta oltre che di una successiva mostra anche di workshop, incontri con l'autore, momenti di approfondimento e seminari sulla fotografia. L'idea del Photo Festival è un'idea che già nasce l'anno scorso con la nostra prima edizione presso il Castello Episcopio. L'anno scorso è stata diciamo una versione beta e abbastanza gerba perché era la nostra prima esperienza con un evento così grande. L'evento è destinato a fotografi e foto amatori ma anche visitatori e cittadini che potranno con ingresso libero visionare le rassegne. Obiettivo valorizzare il centro storico di Grottagli e dislocando le mostre in più edifici, siti appunto nel Borgo Antico e non più solo in un luogo. Le mostre saranno ospitate a Palazzo De Felice, nella Galleria Lacchiatura, nel Caffè Letterario, nella Chiesa di Santa Lucia, questi ultimi due luoghi riaperti al pubblico per l'occasione. Un progetto nato tre anni fa, si tratta di una serie di fotografie fatte in luoghi di mare nel Basso Salento che ritraggono bagnanti in diverse situazioni, cioè chi chiacchiera, chi gioca, chi parla al telefono, chi si abbronza, chi si rilassa nel mare. Insomma il risultato è una scena teatrale, una sorta appunto di teatro, di narrazione dove appunto ogni bagnante racconta della propria vita.